Sono Davide Barbetta, Claypachi dal ProLight & Sound. Siamo nella Lounge Claypachi, in questa fiera di Francoforte, che è un ambiente che abbiamo ricreato ad hoc in occasione di questa fiera per ospitare i nostri servitori, i nostri dinneri, un ambiente confortevole, raffinato, un po' meno caotico. Abbiamo quindi questa Lounge in cui in un corner abbiamo ricavato questa Claypachi TV che è una diretta live dal ProLight & Sound. Praticamente ci siamo messi a fare noi il lavoro di giornalisti, lo stesso lavoro che stai facendo tu adesso, e intervistiamo i nostri clienti, i nostri dealer, per tutti coloro che vogliono lasciare una testimonianza di questa manifestazione. Applaudiamo i video sul nostro canale YouTube, che è Claypachi TV, li applaudiamo ogni ora, ogni due ore, in modo anche da dare la possibilità a chi sta a casa, a chi non è potuto venire in fiera, di essere un navigatore virtuale di questa fiera. La fiera va da lui, anziché lui venire alla fiera. Ti mostro ora invece le novità di prodotto. Siamo qua al ProLight & Sound di Francoforte, con questa nuova serie di prodotti, che sono una premiere internazionale, nel senso che li lanciamo per la prima volta, e sono anche i primi prodotti a corpo mobile LED che Claypachi produce. Sono una famiglia di tre wash, che abbiamo chiamato Aleda, che è l'acronimo di Automated LED Apparatus. Abbiamo un modello K5, che è quello equiparabile alla categoria dei 300 Watt di luce a scarica, che ha un'ottica fissa, un'apertura di 6 gradi. Abbiamo un modello K10, che invece equivarebbe a un prodotto a scarica da 575 Watt, con un'ottica con uno zoom da 8 a 40 gradi, e il prodotto capostipite della categoria, che è una LED Awash K20, che è invece un prodotto sempre con un'ottica zoom da 8 a 40, e con un'emissione luminosa di 18.000 lumens. Questo prodotto, che è il più potente, equivale come categoria a un 700 Watt a scarica. La caratteristica di ognuno di questi prodotti è che ognuno dei pixel LED è controllabile individualmente. In questo modo è possibile creare dei bei giochi di colore, sia sul faro che in fase di emissione del fascio di luce. È possibile, ad esempio, colorare in modo distinto vari colori contigui, è possibile creare del corone, qualsiasi combinazione che si vuole fare in una gamma di infinite tonalità, è possibile farla, e anche con il passaggio di colore desiderato. Questo è un prodotto che abbiamo lanciato al Plaza l'anno scorso. È un prodotto che ha un concept molto innovativo, perché è praticamente un cambio a colori LED portatile e con una batteria ricaricabile. La batteria ricaricabile permette una cosa fondamentale, cioè di evitare l'alimentazione. Infatti, come si vede, funziona perfettamente senza cavi. Questo è utilissimo per una molteplicità di eventi che possono magari creare qualche problema per le installazioni normali, perché durano poche ore o un periodo limitato di tempo, come pensiamo ai matrimoni, pensiamo a delle feste private, a delle feste di paese. Con questo prodotto è possibile in pochissimi minuti completare l'installazione, semplicemente trasportandolo, posandolo a terra e accendendolo. Lo si può orientare, ovviamente, in vari modi. e, contrariamente ai pochi concorrenti di questo prodotto esistente sul mercato, può funzionare anche con l'alimentazione. Basta affinare il cavo in questo sportello e funziona regolarmente anche in questo modo, quindi ha la doppia modalità di funzionamento. Allo stesso modo si può ricaricare o con l'alimentazione oppure inserendo il prodotto in un flight case studiato appositamente che permette la ricarica del prodotto.